Sul tracciato inglese di Donington Park si svolge il quarto appuntamento del Mondiale Supersport 300. In pole position Alfonso Coppola è in 1'46'150 davanti a Borja Sanchez, Mika Perez e Chris Taylor. Allo stacco il migliore è Mika Perez che infatti conduce alla prima curva davanti a Sanchez e Taylor. Solo quarto il poleman Coppola. Alla S Sanchez perde terreno e viene superato da Taylor e Coppola. Settimo alla fine del primo giro il leader di campionato Derue. Al secondo giro García e Sanchez passano Taylor, in più García supera anche Coppola all'ultima curva. L'italiano tenta il sorpasso alla prima curva ma non riesce e García rimane davanti. I primi sei riescono a scappare dal resto del gruppo. Alla McLean's García passa il comando seguito da Coppola e Perez che prima della S torna al comando, Coppola sempre secondo. All'ultima curva Kalinin che era quarto scivola e compromette ancora una volta la sua gara. Per via di questa caduta il gruppo si separa. Perez alla McLean's riprende il comando dopo che Coppola si era portato in testa. Coppola ripassa all'Airpin, Perez passa ancora alla McLean's ma l'italiano incrocia e si riporta al comando. Perez però sfrutta il suo motore e ripassa prima della S. Creduta intanto di Sanchez finito nelle retrovie. García passa Coppola all'Airpin ma l'italiano all'esterno resiste e ripassa. Prima al secondo posto e poi al primo alla staccata della S. A 5 giri dalla fine Coppola prova il sorpasso su Perez ma il numero 88 resiste e rimane davanti fino alla Melbourne dove non può nulla alla staccata dell'italiano. Sul rettilineo del traguardo il pilota Honda ripassa in testa con Coppola che risponde all'esterno di curva 5 ma che poi si accoda. L'italiano non aspetta molto, infatti alla S passa. Perez ci prova alla Melbourne ma finisce lungo. Coppola passa ma allarga a causa di García che in una curva godagna due posizioni. La leadership del 41 dura poco, infatti sia Coppola che Perez lo ripassano. Ancora una volta Perez passa prima della S e si riporta in testa. Al giro successivo Coppola passa alla McLins e Perez passa per l'ennesima volta sul rettilineo prima della S e l'italiano risponde ancora una volta alla Melbourne portandosi in testa quando inizia l'ultimo giro. Perez sfruttando l'accelerazione della sua Honda passa alla prima curva. Coppola grazie alla scia passa alla S. Perez risponde alla Melbourne ma Coppola all'ultima curva stacca più forte. Passa e va a vincere il Gran Premio di Gran Bretagna. Purtroppo per Coppola durante le verifiche tecniche i giudici evidenziano un'irregolarità tecnica e il pilota italiano viene squalificato dalla gara. Il vincitore è dunque Perez davanti a García e Derù che conferma la leadership in campionato.